Inchiesta alla carica delle 104, 5 condanne e 2 assoluzioni al processo di appello. Gela arrestato per l'incendio di un'auto in piazza San Giovanni Bosco. Aggredito e picchiato, Trentenne finisce all'ospedale, indagano i carabinieri. Il ritorno a scuola negli istituti nisseni. Bentrovati, apriamo questa edizione con la cronaca giudiziaria. Inchiesta alla carica delle 104 nell'Agrigentino, 5 condanne e 2 assoluzioni al processo d'appello. Sentiamo i dettagli nel servizio. Si è chiuso con 5 condanne e 2 assoluzioni il processo di secondo grado celebrato in Corte d'Appello a Palermo per una serie di false attestazioni di invalidità scoperte ad Agrigento con l'inchiesta alla carica delle 104, risalente al 2014. Corruzione, falso e truffa aggravata e i reati contestati a vario titolo agli imputati. Nell'inchiesta erano coinvolte parecchie persone, tra cui medici, funzionari pubblici e appunto pazienti i cui destini processuali si sono divisi, viste le diverse scelte di rito, le archiviazioni e i patteggiamenti decisi in passato. Da un lato c'era chi rilasciava certificati falsi, dall'altro chi ne beneficiava per ottenere pensioni o trasferimenti di lavoro in sedi ambite. Per alcuni capi di imputazione è stata anche dichiarata la prescrizione, essendo datati nel tempo, mentre un'imputata è deceduta nell'emore del processo d'appello. Tra gli elementi di prova decisivi le immagini registrate dalle telecamere, quando i presunti falsi invaliti si recavano nella sede della commissione in ambulanza o in carrozzella e poi si allontanavano a piedi. Secondo l'accusa sarebbero stati due i gruppi a mettere in piedi la presunta maxitruffa, in cui era stato messo a nudo il ruolo di alcuni medici compiacenti, che accettavano denaro a volte per somme modeste in cambio di certificazioni di malattie di lieve entità o anche superiore a quella reale. Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada statale 115 denominata sud-occidentale Sicula, che attraversa diverse province siciliane. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato nelle vicinanze di Sciacca, per un'autoveltura ribaltatasi autonomamente al chilometro 120. Nel sinistro due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'ANAS per il ripristino della circolazione. Andiamo a Gela, arrestato per l'incendio di un'autovettura in piazza San Giovanni Bosco. Un gelese è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di avere bruciato un'autovettura in piazza San Giovanni Bosco, appunto a Gela, nei pressi della sede della Caritas. Le indagini della polizia si sono basate sull'analisi delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove era avvenuto l'episodio. Gli investigatori avevano anche sentito alcuni testimoni ed eseguito accertamenti tecnici per ricostruire tutto il quadro di inchiesta. A quel punto la procura di Gela ha chiesto l'applicazione di una misura cautelare e il GIP del Tribunale della Città del Golfo ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per l'indagato sospettato di essere l'autore dell'incendio doloso. L'inchiesta in ogni caso non è ancora chiusa, ci sarà da stabilire anche il movente alla base del gesto. Una volta completata l'indagine, la procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato e quindi l'apertura del processo o archiviare il fascicolo. Un numero sempre crescente di cittadini sta segnalando la ricezione sul proprio smartphone di messaggi sms del tipo Ciao ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo che appaiono inviati da utenti presenti all'interno della propria rubrica. Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta rispondendo al messaggio ignari di essere vittima di una truffa. E' quanto fanno sapere dalla questura di Caltanissetta attraverso la relativa pagina Facebook, evidenziando. Il codice inviato infatti consenta ai cybercriminali di impadronirsi dell'account WhatsApp e di sfruttare il servizio messaggistico istantanea per compiere ulteriori frodi. La Polizia Postale delle Comunicazioni ricorda che i codici che arrivano per sms sono strettamente personali e non vanno mai condivisi, anche se richiesti da un nostro contatto, da amici o familiari. La Polizia Postale delle Comunicazioni ricorda che i codici che arrivano per sms sono strettamente personali e non vanno mai condivisi, anche se richiesti da un nostro contatto, da amici o familiari. Per qualsiasi ulteriore approfondimento e per ogni segnalazione, la Polizia Postale delle Comunicazioni è sempre disponibile anche attraverso il nostro portale www.commissariatodps.it Andiamo nell'agrigentino, un trentenne è stato aggredito e picchiato a Cammarata. Il servizio. Sono ancora da chiarire i contorni dell'aggressione subita nella notte tra domenica e lunedì da un operatore sociosanitario a Cammarata. Il giovane, un trentunenne di San Giovanni Gemini, stava percorrendo la via onorevole Bonfiglio quando all'improvviso è stato aggredito e picchiato selvaggiamente, riportando numerose ferite. Da chiarire anche il numero degli aggressori. Non è ancora stabilito se siano state uno o più persone a mettere in atto l'aggressione. Gli investigatori dell'arma devono ancora ascoltare la deposizione della persona offesa, che subito dopo l'accaduto è stata accompagnata all'ospedale di Mussomeli, dove i medici che hanno prestato le prime cure hanno indicato una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori stanno anche verificando l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona di via onorevole Bonfiglio a Cammarata, per vedere se siano state registrate immagini utilizzabili per identificare chi ha compiuto il violento assalto. Sentiamo il servizio di cronaca. Ancora una notte di sbarchi di migranti sulle coste siciliane, in questo caso a Lampedusa. Tre le imbarcazioni che sono affrodate sulla costa della più grande delle isole Pelage, nell'area compresa tra Molo Madonnina e Calacroce. Sono 56 le persone arrivate sulle coste siciliane, nel dettaglio si tratta di 38 tra egiziani, bengalesi e libici, 14 che arrivano da Guinea, Mali e Bangladesh, fra cui figurano tre donne e un minorenne, e quattro tunisini. Sono stati i carabinieri a individuare e bloccare i migranti arrivati sulla costa, e per quanto riguarda gli ultimi due gruppi non sono state ancora ritrovate le imbarcazioni utilizzate per il viaggio. Nei giorni scorsi sull'isola si erano registrati altri 25 sbarchi, per un totale di 572 migranti, che spinti dalla disperazione e dal bisogno di trovare una vita migliore, oltre che di fuggire da zone martoriate da guerre e persecuzioni, cercano una nuova terra promessa in Europa. Nel frattempo resta viva la situazione di emergenza all'hotspot di Condrada, in Briacola, dove al momento sono presenti 1.392 persone a fronte di 350 posti. Numeri pesanti, soprattutto se si pensa alle condizioni di vita quotidiane e igienico-sanitaria per le persone presenti. L'Inps fa sapere, in una nota diffusa attraverso il sito internet, che negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail trasmesse dall'Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa. Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e quindi di consultare sul sito dell'Inps il va de mecum attenzione alle truffe, periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute. Inoltre è possibile informare il contact center al numero verde 803164 da fisso e 06164164 da cellulare. Ancora furti in prossimità delle spiagge agrigentine. Stavolta vittima un giovane favarese e un suo amico. Il servizio. Ancora furti sulle spiagge agrigentine dove in questi mesi sono stati presi più volte di mira beni e oggetti di valore sia portati sulla spiaggia stessa che lasciati in auto. Stavolta la disavventura è toccata a un giovane di 29 anni di Favara che si era recato a Portempedocle per trascorrere qualche ora di relax al mare insieme ad un amico. Solo che dopo avere trascorso circa un'ora in un lido della cittadina agrigentina ha trovato l'amara sorpresa quando è tornato verso la propria auto. Qualcuno aveva aperto il bagagliaio della sua auto, una Opel Corsa, rubando le carte di credito e il libretto Smart che proprio per prudenza l'uomo aveva lasciato all'interno della vettura. Stesso destino subito dall'amico del 29enne, il quale aveva lasciato a sua volta le carte di credito in auto e che sono state rubate anche a quest'ultimo. A questo punto non è rimasto nulla da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri di Agrigento, i quali hanno avviato subito le indagini. Sarà difficile riuscire ad individuare i responsabili, visto che nella zona dove è venuto il furto non sembrano esserci impianti di videosorveglianza. La speranza è che qualche passante possa essersi accorto di maneggi strani o della presenza di persone sospette, anche se finora nessuno sembra aver notato cosa stava accadendo negli istanti in cui il furto veniva perpetrato. La Direzione Politiche Sociali e Scuola del Comune di Caltanissetta rende noto l'avviso pubblico per la selezione di sei operatori qualificati per la realizzazione nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 di attività integrative di assistenza agli alunni disabili, individuate dai dirigenti scolastici presso le direzioni didattiche e istituti comprensivi statali di Caltanissetta. Scadenza di presentazione delle domande fissata per il 23 settembre 2022 entro le ore 13. Saranno selezionati sei operatori aventi la qualifica di operatore socio-sanitario ed esperienza documentata nell'assistenza agli alunni disabili. Fra i requisiti previsti, esperienza lavorativa documentata di almeno due anni nell'assistenza agli alunni disabili, maturata presso istituzioni scolastiche e presso enti associazioni cooperative sociali che hanno svolto servizi di assistenza agli alunni disabili presso le istituzioni scolastiche statali. Il ritorno a scuola degli studenti nisseni. Vediamo il servizio. Si ritorna in classe dietro i banchi di scuola con gli zaini ancora leggeri per il primo giorno in attesa di essere riempito da libri e quaderni con attività da svolgere e pagine da studiare. L'inizio delle lezioni era previsto per il 19 settembre e per alcuni questa data è stata mantenuta come nel caso degli studenti e studentesse del liceo scientifico Alessandro Volta. In molti casi invece le singole scuole hanno deciso di anticipare di qualche giorno l'avvio dell'anno scolastico come il Galileo Galilei martedì 13 mentre ad esempio il Manzoni Iuvara, Ruggero VII, Luigi Russo, Di Rocco e Mottura mercoledì 14. La maggior parte delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado invece faranno suonare la campanella il 15 settembre così come i rapisardi da Vinci. Un inizio di anno che prevede un rallentamento delle restrizioni ma anche qualche novità. I nostri bambini della Leonardo Sciascia rientreranno domani mattino, i bambini della scuola primaria e i bambini della scuola dell'infanzia giorno 19 sicuramente con un clima diverso, un clima più rilassato. La novità più grossa quest'anno è l'introduzione dell'educazione motoria per i bambini di classe quinta di scuola primaria, un'introduzione voluta dalla legge di bilancio ed è una bella novità perché finalmente i bambini della scuola primaria potranno fare l'educazione motoria con l'insegnante specialista, un insegnante che ha quindi una formazione specifica. Di fatto i bambini di classe quinta quindi avranno un curriculum da 29 ore e queste due ore che si aggiungono al curriculum ordinario sono proprio destinate a due ore di educazione fisica in palestra. Questo naturalmente determina un potenziamento dell'orario settimanale, le classi da 27 ore passano a 29 ore settimanali, i bambini che frequentano le classi del tempo pieno le due ore di educazione fisica le svolgeranno nell'ambito del curriculum di 40 ore, quindi saranno 38 ore più due ore di educazione fisica. Ciascuna scuola ha quindi proposto anche dei nuovi progetti. La scuola abbiamo potuto rivedere e potenziare il curriculum delle discipline ordinarie, nella fattispecie alla Leonardo Sciascia si è potenziato il curriculum di italiano perché si è potuto introdurre in questo diciamo senso, recuperando l'ora di educazione fisica prima fatta dalle maestre, si è introdotto a un'ora di biblioteca. Altra novità riguarda nello specifico l'attivazione dei laboratori di inclusione nelle classi di scuola primaria, laddove sono presenti alunni con disabilità, quest'anno nella nostra scuola una disciplina a sfondo educativo e nella fattispecie è diciamo la musica, l'educazione musicale sarà affidata alla responsabilità specifica dell'insegnante di sostegno che curerà l'attivazione di un laboratorio per tutta la classe a partire dall'alunno con disabilità e ci sarà un'inversione di ruolo perché in quel tempo del laboratorio l'insegnante curricolare di ruolo comune si occuperà in modo specifico di supportare il processo di inclusione del bambino con disabilità. Nulla viene tolto al bambino ma vengono create le condizioni perché i processi di inclusione siano respirati in maniera più diretta dagli alunni ma anche dal personale scolastico. Siccità aiuti alle imprese agricole prorogata la scadenza per la presentazione dei documenti di cantierabilità. Avranno 45 giorni di tempo in più le imprese agricole per presentare la documentazione relativa alla cantierabilità necessaria per accedere agli aiuti contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento. Dall'assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura arriva l'avviso pubblico per annunciare la proroga a seguito della richiesta della federazione dell'ordine dei dottori agronomi e forestali. Un provvedimento richiesto poiché i procedimenti istruttori sono stati avviati in ritardo ed in coincidenza con il periodo delle ferie estive, si legge, le quali hanno rallentato l'attività degli enti preposti al rilascio dei permessi e o autorizzazioni del territorio siciliano e conseguentemente l'emissione dei suddetti provvedimenti, mettendo a rischio la finanziabilità dei progetti. La decisione di prorogare i termini dei 90 giorni, aggiungendone altri 45, è stata presa anche in considerazione della grave emergenza congiunturale causata dalla pandemia da Covid-19, si precisa ancora. Peraltro ancora in atto che ha determinato ritardi e disfunzioni nell'espletamento delle attività degli uffici pubblici, considerata altresì la crisi economica derivante dall'aumento dei costi delle materie prime al fine di garantire l'utilizzo delle risorse assegnate alla realizzazione dei cosiddetti laghetti collinari e tenuto conto altresì, si aggiunge, delle misure sulla maggiore flessibilità introdotte dall'UE in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria alla luce della straordinarietà degli eventi verificatisi. Si allungano dunque i tempi a disposizione per le 759 imprese ammesse ai contributi, secondo la gradatoria approvata a dicembre 2021, per inviare la documentazione da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. Le ditte interessate devono presentare, infine si precisa, richiesta di proroga all'ispettorato dell'agricoltura competente, debitamente motivata, allegando copia delle richieste inerenti e la cantierabilità agli enti preposti. Violenza sulle donne, Aurora Ranno, presidente dell'Associazione Contro Tutte le Violenze, ha incontrato il prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. Il prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, ha incontrato la presidente dell'organizzazione di volontariato contro tutte le violenze, Aurora Ranno. Nel corso dell'incontro si è discusso di una serie di iniziative e interventi da realizzare per creare delle attività sia di carattere formativo e anche conoscitivo per il pubblico su argomenti di grande attualità quali la prevenzione, il contrasto della violenza di genere e la promozione della cultura delle pari opportunità. Argomenti da rendere sempre più attuali, secondo Armenia e Ranno, all'interno delle scuole in collaborazione con le forze dell'ordine, le autorità e le istituzioni di settore. In progetto anche la realizzazione di un protocollo istituzionale tra la stessa prefettura e l'Associazione di volontariato nell'ottica della realizzazione a Caltanissetta di uno sportello di ascolto per i casi di violenza e discriminazione. Ringrazio il prefetto Armeni e tutto lo staff della prefettura di Caltanissetta per la sensibilità e l'interesse con il quale hanno ascoltato le nostre proposte operative e per questo motivo, ha affermato la presidente di Contro tutte le violenze, Aurora Ranno, sarà immediato e costante il nostro impegno nel contribuire al potenziamento delle nostre attività, nel rispetto di una logica di rete e collaborazione interistituzionale necessaria per garantire diritti e tutele a chi ancora oggi ne risulta privo. Il prossimo servizio. C'è tempo fino al 30 settembre per presentare il modello precompilato 730 online e presentare così la propria dichiarazione dei redditi. Coloro che nei mesi scorsi hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti per esempio i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie per la casa, quelle sostenute per la scuola, l'università dei figli e molte altre. La dichiarazione accettata senza modifiche esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali, ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata. Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenzieentrate.gov.it con le credenziali SPID o carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per inviare il 730 c'è tempo fino a venerdì 30 settembre come detto, mentre per il modello redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022. Novità di quest'anno è la possibilità di affidare a un familiare o un'altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione, compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia. Se la procura è affidata al coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, il contribuente può inviare il modello anche online tramite i servizi telematici o via posta elettronica certificata. Se si tratta di un'altra persona di fiducia occorre conferire la procura in un ufficio. In tutti quei casi in cui a causa di patologie la persona rappresentata non può recarsi in agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante insieme a un'attestazione del medico di base del rappresentato. Le informazioni su questi dettagli sono disponibili online in un video realizzato dal canale ufficiale YouTube dell'agenzia delle entrate e sempre sul sito internet dell'ente è disponibile la guida per l'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia. E inoltre online un sito interamente dedicato all'assistenza info 730 con tutte le informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti in cui i cittadini possono trovare risposte ai loro dubbi. Giochi, palloncini, bolle di sapone, magia, trucco per bambini e tante altre attività intratterranno grandi e piccini domenica 18 settembre in Piazza della Repubblica. Un appuntamento che vedrà la partecipazione dei volontari di Viviamo un positivo Caltanissetta o DV che abbraccia l'idea di VIP Italia o DV di trasmettere sorrisi per l'appunto pensieri positivi. Una realtà che si occupa dell'attività di volontariato Clowni, strutture ospedaliere e sanitarie e che insieme alle associazioni federate anche quest'anno scende in piazza in occasione della giornata del naso rosso giunta alla diciottesima edizione. Un'occasione per raccogliere i fondi necessari per sostenere le attività e i progetti di VIP Italia. Ci saranno nasi rossi dunque a Caltanissetta dove si prevede nel pomeriggio anche un flash mob con l'esibizione delle scuole di ballo. E passiamo allo sport, la Serie C2 di Calcio A5. L'Atletico Nissa punta in alto fin dall'esordio a Pedara. L'Atletico Nissa di Calcio A5, dopo la straordinaria, fantastica, per certi versi irripetibile scorsa stagione di Serie D, vuole essere ambiziosa anche nell'imminente campionato di Serie C2. La società è stata fondata da Filippo Costa, ex calciatore di buon livello, nel 2020. Un gruppo di 14 calciatori, di cui 12 sono atleti nisseni. Questa è la più grande vittoria dell'Atletico Nissa. Campionato di Serie C2 che per i gialli rossi comincerà sabato da Pedara, con l'obiettivo di conquistare almeno i play-off. Nel frattempo, nell'attesa del prossimo anno di fare la fusione con la Nissa, nuovo presidente è stato nominato Totò Messina. Un appassionato di sport, di calcio, da anni impegnato nel calcio. Una famiglia di sportivi Messina, dal momento che anche i figli Luigi, portiere dell'Atletico Villalba e Matteo, che aveva cominciato la stagione nella Gorgonia, giocano a calcio. Sono molto onorato dell'incarico che mi è stato accordato. Ringrazio a tutti i soci per avermi scelto. Che dire, dico che quest'anno giochiamo con il nome Atletico Nissa, ma perché non potevamo per vie burocratiche giocare come la squadra con il nome Nissa. Quindi diciamo che l'Atletico fa parte della Nissa. Un altro anno passeremo come Nissa. L'obiettivo è centrare i play-off. Devo dire che abbiamo un mister, è vero che è giovane, ma è anche veterano, è uno che si rende molto di calcio a 5. Ho preso 3-4 giocatori di categoria e quindi ripeto, i play-off sono il minimo da centrare. Poi abbiamo i due brasiliani che stiamo avendo un po' di problemi per il tesseramento. Se arrivano i brasiliani e l'asticello un pochettino sale. Sono felice di avere squadra 14 tesserati, di cui 12 nisseni e questa è la cosa che più mi preme dire, per cui sono orgoglioso e lo dico forte. Abbiamo iniziato per scherzo e la società si è innamorata di questa disciplina. Spero che altre società si uniscono di questo ne sono contento perché già so che almeno due squadre di Caltanissetta faranno il campionato di Serie D e che cresca la disciplina qui a Caltanissetta che si era un po' persa nell'ultimo periodo. Andremo a visitare Pedara, andremo a fare questa trasferta, una delle più lunghe trasferte, però è molto ingoraggiante perché l'anno scorso iniziai così, iniziai con la trasferta più lunga, ho perso la prima partita e poi ho fatto 19 vittorie di fila, quindi per me è possibilmente un segno del destino avere la trasferta più lunga come prima partita. Bene, per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il flusso umido atlantico continuerà a scorrere su parte d'Italia, soprattutto al centro nord, provocando acquazioni temporali sparsi, in modo particolare sulle regioni del centro. Osserviamo intanto la grafica della nuvolosità che ci mostra come frequenti addensamenti interesseranno il centro nord del nostro paese, mentre all'estremo sud continuerà a dominare il sole. Passando quindi al dettaglio delle precipitazioni noteremo come soprattutto i versanti tirrenici saranno alle prese con acquazioni temporali in movimento poi verso il comparto adriatico, ma anche sul nord-est non mancheranno precipitazioni sparse. Vediamo quindi il tempo che ci attende. Il tempo sarà nel complesso più soleggiato sulla Valpadana, mentre come dicevo sulle regioni del centro sarà moderatamente instabile, a tratti anche perturbato, con temporali talora di forte intensità tra Toscana, Umbria e Lazio e localmente stazionari. I fenomeni poi tenderanno a traslare verso il settore adriatico, indebolendosi poi con l'andare del giorno, mentre sul nord-est non mancherà anche qui dell'instabilità a inizio giornata sulla Venezia Giulia e poi sull'arco alpino. Temperature che restano particolarmente elevate, con clima tipico estivo soprattutto all'estremo sud, ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara, Servizio notturno, Centrale, Corso Umberto